Da poco ho annunciato che sarà a Torino ad accogliere questo enorme evento, ovviamente tutto italiano, ma che è inserito in un progetto davvero internazionale, sarà una grandissima occasione per la RAI dopo più di 30 anni e quindi quest'anno oltre Sanremo c'è per RAI 1 e per tutta l'azienda davvero questa grande kermess in arrivo. Abbiamo appena definito la città, io e Claudio Fasulo abbiamo cominciato nel secreto della mia stanza in ufficio a fare ragionamenti sulle conduzioni con mille, devo dire la verità, non ne abbiamo ancora parlato ma per i mille parliamo soltanto di contratti, pavimenti che vanno finiti, luci eccetera eccetera, purtroppo insomma facciamo anche manuali, è bello anche farlo e quindi riguardo alla produzione di Eurovision siamo all'inizio del lavoro, sicuramente voi sapete tutti che il criterio di selezione sarà la perfetta conoscenza della lingua inglese e quindi ovviamente Millie sapete che è poliglotta, però insomma cominceremo adesso questo lavoro e ci sarà un po' di tempo per selezionare chi poi condurrà.